tempo di natale tempo di bimbrule e anche di birbrule come accade nel birrificio di ricchi bozzini a cugnasco gerra allora la nostra ricetta si basa su una ricetta molto classica siamo partiti da quello che facevamo sempre col vino però ci siamo detti perché non provare anche con la nostra birra che comunque ce l'avevamo all'inizio forse eravamo un po più freddini sull'idea di una birra calda però poi provando dovevo dire che molto molto contenti sta piano piano andando di moda è questa birra calda e si ancora si viene guardati molto scettici devo dire spesso quando la proponiamo però adesso sono convinto che pian piano l'interesse sta crescendo però sappiamo che nella tua azienda la specialista per la birbrule è mamma silvana che adesso ci presenterà la sua ricetta specifica gli ingredienti birra uvetta cannella zucchero arancia e mela si mette tutto in una pentola si fa bollire dieci minuti e si gusta mamma che parla con un libro stampato adesso ricchi vieni qua e ci dici dove la possiamo assaggiare questa birbrule nei prossimi giorni la potremo assaggiare al mercato di natale in città vecchia locarno oppure la settimana dopo alla piazza natalizia di cugna scogerra bene salute allora